questi erano i suoni magici della playstation 1 konami quando ancora faceva giochi belli zanelli fa sempre e solo giochi belli grazie a tutti 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 con un intro e una grafica che ha dell'incredibile soprattutto per essere del 98 possiamo finalmente iniziare silent tale come silent tale inizia i video in macchina che finesco ovvero sempre con i magici incidenti mortali grazie a tutti mi man è finito in lombardia la droga cheryl cheryl porca puttana che cazzo fa che cazzo fa? è già facendo buio per fortuna che ho l'accendino perché sono tossico qui c'è una bici qui c'è una bici anche quella è bloccato da un recinto e se non lo sai tu ben ben non dico che non sia piacevole oh my god oh my god aspetta ragazzi che sono stanco qua oh fuck oh shit oh was i dreaming? how do you feel? oh oh like i've been run over by a truck but i'm all right i guess glad to hear it glad to hear it you from around here why don't you tell me what happened wait a second i'm just a tourist i came here for a vacation i just got here i don't know what happened i'd like to find out myself uh huh have you seen a little girl just turned seven last month short black hair my daughter my daughter sorry the only person i've seen in this town is you where is everybody i'd tell you i'd tell you if i knew believe me but from what i can tell something bizarre is going on that's all i know that's all i know hmm what's your name harry harry mason sybil bennett i'm a police officer from bram's the next town over the phones are all dead and the radio too i'm going back to call in some reinforcements hold it where do you think you're going my daughter i've got to find her no way it's dangerous out there in that case i need to find her now cheryl's my little girl i can't just leave her out there by herself have you got a gun um no take this and hope you don't have to use it now listen to me before you pull the trigger before you pull the trigger know who you're shooting and don't do it unless you have to and don't go blasting me by mistake got it yeah thanks you do best to stay nearby i'll be back with help as quick as i can and 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 è proprio bello la pistola ecco la capella che al contrario di Resident Evil qui abbiamo un inventario infinito perché Harry col suo big ass ficca tutti gli oggetti nel culo una bevanda energetica monster the drink una torcia elettrica la prendo e finalmente ragazzi la cartina dell'area residenziale la prendiamo assolutamente oh no what's that huh radio what's going on with that radio riuscirà il nostro eroe Harry Mason a trovare la figlia a fuggire da Silent Hill riuscirà Deuteri a guardare l'intero episodio senza sentirsi male riuscirà il taglianto a far uscire il prossimo episodio non tra sei mesi ho fatto questo nel prossimo episodio di Rotary Padventure iscrivà di Rotary suoniamo Al prossimo episodio suoniamo riuscirà di Rotary e e attraversa il riuscirà di Rotary attraversa 教えてくれてるのかな 幸せの意味を探していた 夢の島を目指して 当てのない旅しては 明日の風に吹かれ 流されていたんだ 時の波まで